Ciao, benvenuti a Cazzeggio Catabiotico Ciao, benvenuti ad un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico anche questa puntatona dal colore scrittura creativo la progettazione narrativa dei grandi autori di fantascienza Philip K. Dick, World of Heath 1954 Prominent author, autore preminente, fabula Il primo veicolo robotico biposto fu immaginato nel settembre 1942 su Amazing Stories proprio per affrontare il problema delle code e del traffico urbano Viaggio nel tempo è un tema che nacque nei precursori di fantascienza con Mercier Il tema della retorazione fu introdotta nel 1934 dai Amazing Stories nel plot dei Time Tragics mentre esseri umani piccoli come Lili Puzziani sono remutati dai viaggi di Gulliver di Swift La fabula di Dick prende un problema pratico e comune nel 1950 e poi anni successivi le file di auto dei pendolari dalla periferia a città e ritorno Mescola tutti i temi di qui sopra che vi ho appena detto e infine Dick sforna un racconto di fantascienza dall'odore quasi religioso che sta nel solco del teschio Narratore esterno non oniscente focalizzabile sui personaggi un piccolo flash forward iniziale accenna per sommi capi a tutta la fabola che si disvela in un intreccio lineare senza l'uso di particolari tecniche letterarie Dick introduce un colpo di scena della fabola il protagonista è in parte l'autore della Sacra Bibbia i viaggi effettuati per ragioni pratiche nel continuo spazio temporale hanno influito e retroagito con il fenomeno dei culti del cargo sugli uomini del passato un lettore attento li intreccia a fare un po' incoerente non si capisce come i lili puzziani in realtà antichi ebrei siano riusciti a permeare nella quarta dimensione perché l'autore sia un essere umano gigantesco nel complesso sono a mio avviso molto belli i dialoghi dei vari personaggi talvolta però un po' provisti e rallentano il ritmo diventando anche superiferi tal che li ho dovuti cultare e o sintetizzare Format è un racconto di fantascienza che oggi sarebbe classificato come molto lungo e fatto un libro la descrizione di talvolta è un po' troppo prolisse che ho dovuto occultare nella traduzione sono spesso rallentamenti e parti noiosi nelle intrecce o persone inutili al proseguimento della fabola sono stato costretto a sintetizzarle o tagliarle del tutto come aspetto tecnologico di HardCV ci sono sporadiche aperture all'HardCV con tecnologia Black Box in varie parti mi ho dovuto tecnologizzare il contenuto sostituendo i vetusti registratori al nastro con email e file audio ad uso della rete internet e del contenuto il racconto è etichettabile a mio avviso come fantascienza lontana quasi fantasy l'evento di parziale mistero per un osservatore del ventunesimo secolo ci sono vari indizi nel testo che suggerirebbero che Dick quanto l'illustratore di Words of Ife potrebbero essere entrati in contatto con Rod Sterling molti indizi del racconto rinviano alla sigla di aperto di Twilight Zone che però questa sigla di Twilight Zone comparirà solo nel 1959 ossia 5 anni dopo la pubblicazione del racconto di Dick molto probabilmente fu Rod Sterling che ebbe a prendere spunto da alcuni elementi scenografici del racconto di Dick cliccato su it in 1954 per introdurre elementi scenografici tipici dell'opening del format Twilight Zone questa puntata è tutto un saluto ciao alla prossima